Un occhio di riguardo al mondo femminile e una nuova richiesta di fermare la guerra russo-ucraina Arezzo Wave Love Festival, giunto alla 36esima edizione. Non solo sbarca al Teatro Comunale di Cavriglia il prossimo 8 e 9 ottobre, ma mette al centro due temi di stretta attualità per approfondirli. Ci saranno due ospiti speciali, Alina Pasch e Frida Bollani-Magoni. Quest'anno si parla con le donne, cioè sono sia Frida Bollani-Magoni, che abbiamo portato in giro per tutta l'Europa, è una degli artisti emergenti, è stata da Mattarella, la ragazzina dell'anno, 18enne da una settimana, e poi ci sarà Alina Pasch, che non è un caso che venga dall'Ucraina, è una delle più grandi cantanti rap del paese. Arezzo Wave è a sostegno della fine della guerra in Ucraina, in sintonia con Europe, la federazione europea di 90 festival rock in cui Arezzo Wave rappresenta l'Italia il prestigioso evento. Si aprirà con un'anteprima il 7 di ottobre all'auditorium di Castelnuovo d'Avane, Borgo Incantato, che grazie a 20 milioni del PNRR tornerà all'antico splendore. Abbiamo anche pensato di coniugare questa iniziativa appunto di livello internazionale culturale con il vecchio borgo di Castelnuovo d'Avane, che è il Borgo dei Borghi, il borgo che la regione toscana ha scelto per essere finanziato con 20 milioni di euro del PNRR e che appunto sarà rigenerato attraverso prevalentemente iniziative di carattere culturale.